Ciao a tutti ragazzi in questo nuovo video e se avete visto lo scorso video siamo qui insieme a Giuseppe Io lo stavo telefonando poi lui non mi ha risposto, poi mi ha risposto e poi ce l'abbiamo fatta Giuseppe non so se riuscirà a vincere Forse si Giuseppe sono morto a un secondo dalla fine Mi laga tutto Giuseppe non mi laga più Mi laga di nuovo stai tu qui 69 69 è piena di gente che mi manda richieste d'amicizia Bumba rumba Giuseppe come facciamo a sopravvivere o non lo so Ah dentro le auto, auto, motorette, dentro le auto, motorette Giuseppe ti devi mettere a pilota Giuseppe Giuseppe mi sa che si possono pilotare stai cavoli di motorette Giuseppe no Marco stiamo a fianco No non si pilotano Giuseppe perché non si sono Io quella verde a fianco a te sono Giuseppe non si stanno bruciando Si stanno bruciando Si stanno bruciando Siamo sopravvissuti Marco saluto ragazzi Le ho già salutati Marco per bloccare un attimo il video Ok Giuseppe lo blocco in fretta però Ragazzi adesso mi blocco un attimino e vi metto quando Quando questa cosa qui che non so che cosa vuole dire Giuseppe sarà passata Ragazzi Cioè mi sono salvato con pochissima vita dalla lava No Giuseppe non andare lì che fra un po' scompare Giuseppe io mi butto nella lava Abolia can fly Abolia can fly Con la sfera si balla senza avere paura Con la sfera dupi dupi di dam Ci sono robot trasformati in umani Ci servono un posto di ghiaccio e delle nuvole Siamo in un posto di ghiaccio con delle nuvole bianche Secondo me il ghiaccio è delle nuvole Aiuto lag al mondo Giuseppe io vado dentro il bunker Giuseppe io me ne vado dentro il bunker Vediamo se ci entro Vediamo se ci entro Voglio vedere se ci entro in questa porticina Giuseppe Marco vuoi riuscire No Giuseppe sono entrato Giuseppe sono entrato dentro il piccolo bunker Sono entrato dentro il piccolo bunker Ciao Giuseppe Ciao Giuseppe Sono sopravvivendo Sono sopravvivendo Giuseppe Ciao Sono qui Giuseppe Giuseppe Alla fine sono riusciti ad entrare dentro quel piccolo bunker Il pavimento non si capiva più niente 8 secondi 7 capitano Capitano il raggio è appena esploso Cosa si fa Capitano Ah bisogna andare lì Cavolo non avevo capito Giuseppe io ci muoio Io ci muoio Io ci muoio male Io ci muoio Giuseppe ci sono morto Tu Beato Io ti muoio e' lo nächste Ti muoio Veato Lag Ti muoio Prendi a Giuseppe Non a Marco si fai lag fai lag sei morto giuse io sono ancora vivo sono vive vegeto con tutta la vita è morto un tizio simile a me che ti stava implorando se giuseppe eri morto ma io sono ancora vivo ok però adesso cosa si fa si salvi chi può in una città zombie giuseppe siamo defrosti zombie io sono vivo grazie al mio parkourista preferito lion vgf sono morto si era un bug i bug volanti io pensavo che avessi avuto un lanciara giuseppe penso che stai volando perché ti hai rimesso un colpo e lanciarazzi in un punto che ti faccia volare stai volando come superman e io sono super no tu sei super giu io sono super pupu giuseppe salvi chi può io so dove andare io non lo so io non lo so io non lo so se mi riesci a salvare giuseppe sono morto sei morto pure tu però sei morto giuseppe giuseppe io sono ancora vivo si giuseppe ti vedo per ti vedo perché sono vivo non sono morto sono vivo ho trovato una casetta dove nascondermi non è vero ci sono pure io il lag mi sta avvolgendo dentro il suo mondo mi vado a comprare la coca cola quella buona ti va a comprare la coca cola la coca cola da 200 euro da 230 euro no è arancione e se mi compro il frullatino se mi sto comprando le cose per ubriacarmi io non mi posso più comprare niente perché mi laga tutto il mondo giuseppe ho comprato la coca cola verde che cosa mi fa mettiamola giuseppe ok io bevo la coca cola ma che cos'è non vale giuseppe sei morto tu prendiamo la coca cola verde io sono vivo invece bevi la personaggio ma che cos'è questo ma c'è Gigi D'Agostino c'è un pelato con il cappello c'è c'è 300 like una faccina sorridente con nasino carino due bevi coca cola c'è ancora il tizio che balla con la musica che canta c'è scritto leggendario c'è scritto nabo c'è scritto super nabo c'è scritto gameplay ci sono gli occhiali dei pro c'è ancora quel tizio che balla ci sono gli occhiali dei pro siamo dentro non ci capisco più niente mi sono giuseppe ma questa coca cola qui sei sicuro che non è la la cosa che inizia con la d aiuto giuseppe perché me l'hai fatta prendere e poi quanto dura sto cavolo di effetto se quanto dura cinque minuti cinque minuti cinque minuti no giuseppe sto vedendo le potazzino ovunque di nuovo il tizio che balla col cappello ha pelato il bianco e nero nove monete la faccina sorridente mi è passato finalmente e butto nella lava però dire non c'è più la lava Giuseppe, prima questa musica qui non me l'avevo fatta, dove sto andando, dove devo andare, cosa devo fare, io non ci riesco a saltare, dove devo andare, Giuseppe, non capisco più niente, aiuto, sto morendo, è neccato nel lava, Giuseppe, lei è la salvezza, lei è la salvezza, aiuto, che si salvi chi può, Giuseppe, sono morto e mi è passato l'effetto, sì, ok, non c'è lag, lag, vai a Giuseppe, vai tutto quanto a Giuseppe lag, no, non venite a me lag, per favore lag, non venite a me lag, per favore, sono morto un secondo, bravo Giuseppe, ok, il lag non c'è, il lag non c'è, il lag non c'è, il lag non c'è, che voglio, sono passato il mio giuseppe, Giuseppe, ho preso un ful, Giuseppe, io ho preso un ful, io ho preso un fulato marron e non so cosa fa, sta scherzando che non fa niente, guarda Giuseppe, questo qui, Giuseppe, mi bevo questa, Giuseppe, mi beve il frullato che forse me la fa passare, mi beve il frullato marrono che non so che cos'è quella marrona, se del Nutella oppure se è altra cosa, ci sono bel due tizzi, tre tizzi, due pacchetti di patatine piccanti, aiuto Giuseppe, c'è uno spinner che vola, qualcuno ha preso per sbaglio una palla da ballo, ripeto c'è qualcuno che mi sente, dove siete tutti, si vola, quindi adesso devo fare così, devo fare così, Giuseppe, non capisco più niente, non capisco più niente, Giuseppe, mi sono salvato non capendo più niente, Giuseppe, non mi sto salvando non capendo più niente, Giuseppe, mi è passato l'effetto, dove sei Giuseppe, ho bevuto la Coca Cola, ho mangiato la burger, ho bevuto quella bibita, e mi sta comprando, e mi sta comprando un paio di roba di Goku, di Goku? non ce n'è Giuseppe, fammi vedere sta Coca Cola Goku, fammela vedere, fammi vedere, non è una Coca Cola Giuseppe, guarda, guarda cosa faccio per te, guarda cosa faccio, mi verrà qua, Giuseppe, io non capisco più niente, ti assicuro che io sono appena morto, Marco, ti sei ripetuta? Si, adesso mi compro pure l'hamburger, Giuseppe, ho preso l'hamburger, vediamo cosa fa, hamburger, mangiati, vediamo se fa rumori, io blocco il video, subito dopo faremo un altro video, ciao ciao! ciao!